Pensiere, parole, poesie, dediche, racconti e riflessioni di Salvatore Colla. E se quanto non vuole ammereare, a usta che i bittizi da porto naturale e non c'è nessuno gli stessi che hanno un mare così fuggito in tutto questo vale. Viene magari in vanto per tutti i marinari e non solo. I navi fanno sempre trasernesce a tutti loro e per forestare che vivono questi bittizi ci vengono come un pulizzo nella testa, mentre la marina militare protegge tutta la costa. I forti calzii a mezzo mare sono come la cerasa sopra la torta, perché è contornato da sbarcature dei turchi, da fare Santa Cruz, l'Angare, un castello Svevo, un rivellino, la porta spagnola e anche a Samatrice. E anche a San Miro come cari, che è un patrino dei paesi. Ah, mi stavo ascoltando, ma cari eblei, ora è zona archeologica, ma antichamente ero bello nostro paese da usta. Grazie. Grazie.